Un diario vecchio stile, proprio perché mi piace lasciare tracce di me, come tutti d'altronde, in questo grande mare che è internet. Niente, sono ormai un anno e qualche mese, due mesi, che vivo, che sono tornato a vivere da solo, perché vivo da solo dal 2007 e tutto va bene, nel senso che il lavoro è abbastanza stabile, non ho debiti, dopo aver pagato il mutuo, anche grazie a mio padre e a mia madre, che mi hanno dato un contributo. La vita amorosa è pari a zero, ma va bene così, anche perché ho visto che le persone cercano più sesso, a me interessa amare qualcuno, con o senza sesso. Sono qui nella mia casetta, piove, fortunatamente il tornado che c'è stato qui a Cernusco sul Naviglio non ha fatto danni, almeno non qui da me, ma nel resto della città e in altre città sì, sono stati sradicati alberi e altre cose brutte. Comunque questa cosa la sapete dai giornali, quindi... Che dire? Faccio molta arte, dipingo, scrivo molto, in una solitudine che qualcuno chiamerebbe autoreclusione, ma sì, lo è dal punto di vista prettamente pratico, ma è una scelta ormai, una scelta consapevole di coltivazione di interessi personali e ai quali non do più deroga, perché quando capisci che il tempo è finito, nel senso che non siamo immortali, e pensando a artisti che nella loro vita hanno prodotto migliaia di opere, io parlo di quelle visive, quadri, cose del genere, ho prodotti veramente pochi in confronto a loro, in 40 anni, perché ho 41 anni quest'anno e quindi mi sono detto mettiti a fare opere, non ho i mezzi per fare quelle grandi tele che vanno di moda o la pop art, che è una pop art non più semplice o graffitara come quella di Basquiat o monumentale come quella di Hering, perché non ho un atelier e anche affittando un posto non arriverei comunque a fine mese. Quindi faccio opere piccole, ma che vengono apprezzate da chi me le compra e sono contento di questa cosa, le vendo a poco, ci guadagno diciamo il doppio dei materiali, quindi se ho speso 10 euro la vendo a 20, così posso farne altre, perché il mio fine è quello, i soldi se ci fossero sarebbe bello essere un artista famoso che voglio prendere in giro, però per adesso è così, quindi magari andiamo avanti così tutta la vita come la maggior parte degli artisti. È partito un allarme. Che dire, ultimamente mi sto focalizzando su tele, no, cartoni telati con sfondo nero, nei miei video a volte li metto, li inserisco, faccio degli astratti, perché il figurativo purtroppo non sono più capace come una volta, non coltivandolo tutti i giorni, l'ho perso, però l'astratto è rimasto, nonostante il mio stile sia innegabilmente povero di una qualità tecnica elevata, ma dal punto di vista comunicativo dell'opera da tanto. Sono opere che parlano quelle nere della sofferenza, no? Quindi in queste opere cerco di dare un'impronta colorata a qualcosa di nero, no? E le sto facendo con i pastelli a olio che sono diventati il mio mezzo di lezione su tela, perché sono più pratici delle tempere olio per quello che voglio fare io, perché le tempere olio, avendo in una casa piccola, purtroppo la varia trementina e gli altri oli che servono per diluire i colori e farli mischiare, sono abbastanza tossici e siccome è una casa di 50 mi intossicherei costantemente. Mentre con le tempere olio metto il fissativo alla fine, che sia una roba, diciamo, tossica. Comunque non è bello respirarla, però lo faccio sul pianerottolo, quindi va via aperto il pianerottolo solo in una corte. E passo le mie giornate nel tema a lavorare, ovviamente, come tutti. Dopo, nelle ore libere, come adesso, adesso è luna di notte, però è bello di notte, il tempo della notte è bello per comunicare anche agli altri qualcosa che nel giorno non si riesce, no? Cambia molto nella notte, anche il nostro animo cambia. Quindi stavo dicendo, mi sono ritrovato a dover aggiustare però in maniera istintuale il tratto su alcune tele, perché alla fine dell'opera o risultava troppo caotica o risultava troppo trattenuta. Ho trovato, per alcune tele, perché non tutte mi piacciono, un certo stile personale, innegabile, che è stato frutto di anni di pratica sull'astratto, nel senso che ogni 5-10 minuti del mio tempo libero l'ho dedicato a fare dei disegni a matita, però che mi davano, anche se piccoli, una certa istruzione di spazialità e di equilibrio legata all'astratto. Mi ricordo che anni fa stavo camminando sui Navigli, sui Navigli se non sbaglio ogni sabato oppure il primo e il secondo, insomma, non mi ricordo, comunque ogni tot qua a Milano espongono i quadri di artisti di strada, di strada perché espongono in strada, ma sono bravissimi, dovete vedere che quadri ci sono, delle cose stupende. E ho incontrato questo pittore, ho appena visto i suoi quadri, faceva dei ritratti che erano qualcosa a metà tra Bacon e Klimt, due stili che cozzerebbero, ci vuole maestria per mischiare due stili così, quello di Bacon così tormentato e quello così barocco di Klimt, però ci riusciva, e gli faccio qua, adesso sei un genio, mi fa sì, ma per diventare genio, non mi ha detto, bisogna anche rinunciare a tutto per l'arte. E lui parlava di cose economiche più che altro, non tanto di emozioni perché l'arte si nutre di emozioni. E sostanzialmente mi diceva, guarda io, 30 anni che ho lasciato Milano, vengo qui solo per le mie mostre o per esporre qui con il mio baracchino le cose, però non una cena fuori, non ho lavorato una vita, adesso ho una pensione, non dico minima ma neanche d'oro, la pensione è discreta e nel mio tempo, già lo facevo prima, il tempo libero adesso, il mio tempo è dedicato totalmente all'arte, studio e pratica. Io ho ancora questo tipo di livello di eremitismo, l'ho solo raggiunto con la poesia, infatti le mie poesie sono, secondo me, anche se non le legge nessuno, però io sono consapevole del sangue che ci ho versato, sono veramente arrivate a un punto personale, non sto parlando in confronto di altri, ci sono poeti molto più bravi, ma da come sono partito, è un punto molto alto per me, perché mi ricordo nella stesura del mio primo libro avevo 21 anni e mentre lo scrivevo sentivo un dolore forte al petto, perché trattavo di tematiche simboliche ma molto impertinenti, nel senso che erano così simboliche che andavano a tirare dentro un quacervo di simboli che il simbolo in realtà non è una cosa non viva, il simbolo è vivo, il simbolo guardati là, cioè senza andare a vedere i simboli sacri o la geometria sacra, basta vedere i simboli delle aziende, il logo è tutto, è un simbolo il logo, quindi il simbolo, soprattutto quelli arcaici o quelli magnetizzati dalla pratica millenaria della magia, perché in antichità la magia veniva praticata tutti i giorni seguendo i ritmi della natura, poi purtroppo ha preso un carattere non più armonico con la natura e da quando è nata la magia nera si è un po' corrotto tutto il fascio di emanazione magica e oggi siamo al punto che il pensiero magico non è più contemplato nemmeno in psicologia, dagli psicologi sì, ma nemmeno dalle persone, ma il pensiero magico non significa ovviamente fare magia, fare riti, intruglie e cose varie, è una sorta di fuga il pensiero magico che fa ritornare i bambini proprio quando c'era quella magia della bellezza, degli occhi sul nuovo, su tutto nuovo, la meraviglia del bambino e quindi il pensiero magico serve anche a questo, del fantasy ad esempio che è intreso di magia, di pensiero magico, perché dà vita a mostri e fiere e bellezze dell'immaginario umano e cosa ha la funzione, il fantasy di farci tornare a sognare, di darci questi afflati verso la bellezza, l'eterna lotta tra bene e male e in tantissime opere e fantasy, che è uno dei miei generi preferiti ma che non leggo più perché la maggior parte di chi scrive fantasy è prolissa, gli autori sono prolissi e io non ho tempo, però serve, hanno disseminato questi autori, i grandi autori, Tolkien, Ursula Le Guin, Terry Brooks, poi io non li conosco tutti, ho letto un po' il trono di spade ma se devo essere sincero è più un porno con i nesti di fantasy perché ho visto anche la serie, adesso ho visto due serie, tre serie, cioè ogni due per tre ti spatonzano davanti un corpo nudo che va bene, però non è quello, non è fantasy secondo me, è fantasy di bassa lega che muove sugli istinti più bassi, poi una crudeltà totale, vengono decapitate ogni due per tre persone, amici, tradimenti, sembra beautiful con i draghi praticamente e con le tette, quindi ovviamente il mio autore preferito è Tolkien che ha dato il via insieme ad altri al fantasy, ma nel senso, come dicevo, il pensiero magico serve anche per fare arte perché aiuta a dare all'artista e a chi ne usufruisce qualcosa di una prospettiva diversa, uno sguardo messo in un altro modo sulla realtà. Perché nonostante nei fantasy siano disseminati simboli antichi, esoterici barra delle mitologie ormai andate perdute dell'Europa di solito, perché fantasy nasce nella società occidentale con la nostalgia per il cavalierato che c'è stato praticamente fino a quando non è stata inventata l'auto poco prima, quindi fa parte del nostro bagaglio anche quello. Stavo dicendo, nelle mie opere ultime sto cercando questo equilibrio tra immediatezza e studio, cioè studio della linea, della campitura, dell'equilibrio dell'astratto. Perché faccio astratti? A parte la prima motivazione, che è quella prettamente tecnica, che non ho più le abilità figurative di una volta, ho scelto di fare anni fa gli astratti perché mi davano più comunicabilità e tantissime mie opere in realtà non parlano a chi ne usufruisce. Parlavano a me, ma non per un fattore egoistico, perché ho usato l'arte non solamente per il fine decorativo o catartico, ma per comprendere me stesso. Poi se a qualcuno mi piace e lo vuole poi comprare, ben venga. Poi cos'altro, visto che questo era un diario, ma poi mi perdo, vado via per la tangente con ragionamenti. Niente, le mie giornate passano così, lavoro, in telelavoro, dopo aver lavorato, tento di tenere la casa in ordine, ma ho scarso risultato e dipingo, scrivo e cerco di fare musica. Adesso poi, visto che questo canale YouTube non ha mai avuto un filo conduttore vero, se non quello di portare un punto di vista sul mondo personale, quello che chiedo a chi ascolta questi video, queste registrazioni, cercate di interagire con me, perché io cerco sempre di accrescere la mia conoscenza per migliorare l'arte e il mio fine è quello. Ad esempio, io anni fa potevo fare carriera, ho scelto di non fare carriera perché volevo fare arte, scelta che poi mi si è, come tutte le scelte, fai una scelta, sì, economicamente sono messo male, ovviamente, anche perché ho dato troppi soldi a persone che non se le meritavano. Poi da quando ho fatto 40 anni ho deciso che sono stufo di dare energia a persone che non che mi ridanno qualcosa a livello economico, ma che non hanno la capacità di starmi a fianco per la grandezza e la bassezza del personaggio che sono, perché io sono capaci di grandi cose, ma anche di terribili bassezze legate a questo squilibrio mentale che ho. Prova ne è che magari non faccio video per un determinato periodo di tempo perché non riesco, perché non voglio più aprirmi. E poi c'è il passaggio dei 40 anni che è importante per ogni persona, forse più dei 30, perché dopo i 40 comincio a fare dei bilanci un po' più profondi e devo dire che dal punto di vista economico sono stato bravo, nel senso che nonostante la malattia mi sono comprato una casa, ho affrontato tutte le spese contingenti per 20 anni quasi e quindi va bene. Dal punto di vista sentimentale amoroso è un disastro, perché è un disastro. Tutte le compagne che ho avuto non sono riuscite a capirle e a capire me da parte loro e poi gli amici, gli amici ne ho persi tanti, alcuni sono morti e apro una parentesi. L'anno scorso, quando purtroppo il mio amico mi ha lasciato, adesso mi corse tre anni fa, sì, credo tre anni fa, si è tolto la vita, no? Non lo vedevo da anni. Io lo sogno ogni notte, non tutte, ma anche ieri notte, l'ho sognato tutta la compagnia con cui uscivamo a 20 anni e è dura, è dura sta cosa. Qualcuno ha pensato bene di prendermi anche in giro su questa cosa, anzi di affondare il coltello, ma la poracitudine del personaggio, anzi della personaggia, quanto mai bassa è schifosa. Io sono stufo di tenermi dentro questo tipo di emozioni per una sopracitata e latente voglia di essere sempre un bravo cattolico, un bravo cristiano. Insomma, davanti al suicidio di una persona è uno che ne soffre anche perché si sente in colpa, perché magari non lo vedeva da anni e non lo vedevo da anni e ci ricama sopra mi e mi prende in giro addirittura cosa che mi ha detto, ti stanno chiamando perché sono andato più volte fuori di testa a pensare a questo mio amico perché credevo mi chiamasse dall'aldilà ma queste sono cose che succedono proprio quando ti senti in colpa e questa mi diceva ti stanno chiamando, ti stanno chiamando, cioè rendetevi conto della poracitudine della persona. Detto questo, io tornerò a fare diari parlati, a dire poesie con la mia recitazione stentata, a fare i miei quadri, però una cosa è sicura, se volete conoscermi dal vivo, rinunciate, non ho nessuna intenzione di vedere persone che si sono fatte un'idea su di me legata alla mia arte che magari uno dice questo qua è interessante, no, no, io sono un poraccio come tutti, nel senso miserabile come la maggior parte dell'umanità che ogni tanto cerca di ritornare in alto verso qualcosa di idealistico, ma in realtà nella vita quotidiana ho dei seri problemi sia fisici che comportamentali, quindi se io ho voglia di conoscermi dopo l'esperienza che ho avuto l'anno scorso, anche no, state lontani, ma a meno che non siate persone veramente, ma veramente, veramente gentili, educate, perché mi è successo che mi è entrata una persona a gamba tesa nella vita, ma chi ti ha dato il permesso glielo ho dato io, ma basta, adesso ho imparato la lezione, di sicuro non ci sa, cioè non è che io penso che la gente voglia conoscermi perché sono bravo a fare arte o perché in realtà c'è una curiosità morbosa su internet verso chi ha le palle come me di dire chiaramente e di parlare della situazione dei malati di mente che pochi hanno e poi nessuno ne parla così apertamente. Io sono stato il primo su YouTube Italia a dichiararmi con la faccia, ancora adesso con il video, con le immagini, con la faccia, però io non credevo che questa cosa generasse è una curiosità morbosa da parte di persone in mala fede, ma non perché sono stupido, sapevo che poteva succedere, perché credevo che ne valesse la pena, ancora lo credo, di portare un parere non discettatorio come fanno alcuni specialisti del settore, ma solamente dal punto di vista che purtroppo subisce anche delle cure o dei metodi un po' fortini, dal punto di vista della cura farmacologica o anche di certi approcci degli psichiatri che sono un po' troppo invasivi dalla privacy, infatti la personaggia che faceva queste cose è un'assistente sociale e lei è venuta qua, a me non mi frega niente, io dico quello che penso, anche se lo ascolta, non me ne può fregare di meno, lei è venuta qua convinta di imparare qualcosa nel settore psichiatrico, perché voleva parole sue, vorrei lavorare nel tuo settore, mi ha detto, e gli ho risposto, ma quale settore? Io sono una persona come tutti che lavora, che ha problemi, cioè ma quale settore? Infatti un giorno gli ho detto pure, ma cosa sei venuto a fare, il terzo modulo per il quinto esame? Cioè rendetevi conto della poracitudine, a me mi ha fatto molto male e parlare a distanza di un anno finalmente mi libera dal, da sto peso, perché tenersi dentro una roba del genere mi farà bere implodere un'altra volta. Poi vabbè, visto che è un diario, i diari si scrivono così, no? Ovviamente non vi dico cosa scrivo veramente sui miei diari, perché non sono pubblicabili né su internet né su un libro. Quindi la vita va bene, soprattutto perché si sono levate dalle bale delle persone pessime, anche in famiglia. io faccio mutuo aiuto con altre persone che ho conosciuto nei vari luoghi della psichiatria, ma perché lo faccio? Ma non perché voglio fare quello che è, ah io faccio quei, ma va, perché ne ho bisogno, ho bisogno di avere un contatto con i miei simili. Poi tra l'altro, il mondo ci ha sbeffeggiato per millenni, millenni. Cioè, gli omosessuali oggi, che sono stati anche lo sbeffeggiati per millenni, adesso hanno dei diritti e così via. Noi ancora stiamo lottando, ma non abbiamo la stessa forza. E lo faccio anche per questo. perché magari un giorno qualcuno di, anche di quelli che lavorano nel settore, io so che qualcuno si incazza per quello che dico e per i consigli che do. Allora, io non ho mai dato il consiglio come ha fatto quella lì di smettere i farmaci c'è la gente che è illegale tra l'altro non si può non solo interrompere, far interrompere agli altri un trattamento farmacologico è illegale, può solo farlo un medico. Ma la sua fortuna di questa persona è che non sono uno che denuncia, anche se tutti mi hanno detto di denunciare, ma io sono a posto con la mia coscienza, non ho voglia neanche di vederla dipinta con la persona, quindi manco in un tribunale non mi può fregare di meno. e niente, stasera il diario verte su questa cosa, vabbè, vado a braccio. Comunque stavo dicendo, cerco di di aiutare i poveri pazzi come me a uscire dalla follia, perché se ne può uscire. Adesso lasciamo stare tutta la gente di merda che ho incontrato. Dalla follia si può uscire. Magari non avrete una vita completamente come pre esplosione della patologia, però si riesce a stare nel mondo. Quindi il mio consiglio è cercate di collaborare con il terapeuta. So che nel pubblico stanno smantellando tutto e questo è un grave torto alle persone malate perché come che ne so smontare oncologia. Cioè il tumore sì vabbè curati con la salvia. Queste cose qua. E infatti questa cosa sta generando caos nei pazienti. io sono sono contento di dire è un processo lungo che ha delle ricadute ha delle ricadute ma si può vivere. Si può vivere. E quelli che maltrattano o deridono i matti sono dei cultori di morte. Adesso vi spiego il perché. La follia è sempre sempre accompagnata da un eccesso di vita che spegne però alla lunga chi la porta. Quindi se voi riuscite a cavalcare e a domare questo cavallo in mezzarrito che è la follia potete vivere tranquillamente e vi accorgerete che siete migliori della maggior parte di quelle persone che vede ridono. Quindi forza e coraggio e fiducia. Buonanotte.